buongiorno a tutti gli amici del canale youtube e gli appassionati del campane questa che vedrete davanti è la mia campana personale è una campana personale fatta in ottone questa campana in ottone e tutte in ottone campana il il sostegno qui curate il l'anello il battaglio il ottone poi abbiamo il filo e poi il battaglio eccolo qui guardate che carino bello lungo e questa campana scusate perché sennò si rovina e per la campana come vedete non ha una forma come le altre come questa qui vedete ha una forma come un cono vedi vedete è molto bassa non è una parte alta come questa non è così alti vedete un'altra e bassi e su qui stretto e fa giù e per largo a me la forza e simpatica un bel suono non sono molto bello che poi per far vedere qui abbiamo molto bella sanzana me la pre me non ho preso i miei genitori diciamo nell'azienda nautica costava un pochino è questa e questa campana ha un diametro di di 15 centimetri qui centimetri e qui ci ci sono i bulloni eccoli e adesso vi farò ascoltare il suo suono a un bel sentite che persone ecco la guardate gli spessori ecco 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 a sentire il mezzo slancio ecco 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 ec ora quella a scampanio ho fatto il filo per la fanite il movimento quella a mezzo slancio e poi quella a slancio perché vedete questo battaglio è bello lungo e allora se essendo è lungo può andare a battaglio volante e questo vi faccio prendere il movimento slancio e questo vi faccio prendere il movimento slancio e questo vi faccio prendere il movimento slancio come avete visto il battaglio del mezzo slancio il sistema mezzo slancio è cadente non va in alto non è come il sistema quello francese non so se avete visto quello retro lance viene chiamato così forse viene chiamato così retro lance che c'ha il battaglio il gancio del battaglio sopra c'ha un contrappeso il battaglio e allora si muove si muove lentamente e poi batte in alto è come il ceppo del mezzo slancio però il battaglio risulta volante è volante scusate scusatemi tanto c'ho la tosse adesso vi faccio sentire quello slancio come avrete avrete visto il suono avrete sentito il suono è molto bello adesso tocca al slancio verrà benissimo secondo me grazie a tutti grazie a tutti eccola eccola qui vede eccola qui la vedete vedete come è bello lungo il battaglio vedete bello lungo anche questo è il tono qui abbiamo il gancio del battaglio che non sono quelle veri delle campane le veri battaglie che hanno il cuoio o il battaglio a maniglia c'è il gancio ha un cino più o meno sembra un cino più un anello e di cui metto il battaglio il battaglio può sbattere in entrambi i lati e in tutti i due lati ecco vedete ecco vedete lo sto dicendo essendo lungo essendo lungo il battaglio può andare a battaglio volante e niente questa è un po' tutta la campana bella campanina una bella campana molto carina scusate l'ultimo a cadere questo pezzo adesso vi provo a farvi sentire l'ambrosiano che secondo me campanale ambrosiano lo conosco questo bel sistema diffuso a Milano a Milano e niente con questo video saluto un po' tutti i campanali di Youtube come vedete questa campana non c'è niente non c'è iscrizione anche sul reto anche qui e là non neanche però ha queste righe che girano intorno anche qui bella comunque e bella bellissima anche carina e niente con questo video saluto un po' tutti i campanali saluto un po' tutti campanale 29 vado a riconoscerlo eh campanale 29 e poi saluto un po' ci sono 72 saluto un po' campanalo 67 campanalo 80 saluto un po' Alex Bels saluto anche Stefano Denti Tarsia saluto un po' Paolo Branchi saluto un po' saluto un po' tutti i amici campanali e potrei salutare anche musicista 97 poi poi che altro chi è che c'è anche vai a dirgli organista Cadorino saluto e Christians 29 e poi chi salutiamo anche dai ancora tre ancora un po' ancora due e campanambrosiane saluto saluto e e Alead e Dani X saluto anche ecco e questo un saluto a tutti i campanali di Youtube e arrivederci dal campanalo visitatore a presto eccola qui la piccola campanella e a presto arrivederci ragazzi a presto 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 Grazie.